Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati a 1, abbiamo vinto la Coppa Italia, sicuramente è una stagione storica, importante, meravigliosa, non c'è più aggettivi perché più di così si poteva fare. Si torna in Serie A1 con due turni d'anticipo. La Bartoccini ha inflitto un sonoro 3-0 all'Esperia Cremona assicurandosi la promozione. Al Palaradi i tifosi al seguito delle Perugine hanno potuto gioire per un successo più che meritato. Due sole sconfitte in un campionato nella Serie Cadetta che ha visto praticamente solo vittorie per Perugia. Le padrone di casa sono partite a sprombattuto e nel primo parziale spingono da subito. Il punto dell'1-0 arriva su errore delle avversarie. Alla ripresa Montano, grande protagonista del match, si fa sentire e cresce il distacco 10-18 con le Lombarde. Il raddoppio arriva su un ennesimo errore, il terzo set è il più equilibrato e poi Bartolini sblocca con tre muri ravvicinati. Il punto della vittoria e della promozione è opera di traballi. 17-25 il risultato finale. Il risultato è il traguardo ma il viaggio è stato figo. Per un allenatore esordiente le paure ci sono, ci conviviamo. La cosa bella è che siamo stati per mano tutto l'anno. Tenere alto, sempre alta l'attenzione, rimanere sempre lì non è facile, non è facile. Ed era facile cadere e noi non l'abbiamo fatto. Siamo stati forti mentalmente, fisicamente, tutto, tutto, tutto. Un grazie a tutti.